Il Pescara ha voltato pagina. Il day after della sconfitta di Cittadella è stato fatale al tecnico Zdenek Zeman, esonerato dal presidente Sebastiani. Subito dopo sono arrivate le dimissioni del DS Peppino Pavone. Se vogliamo, alla fine è stato proprio l'allenatore Boemo a staccare la spina e a porre fine ad un rapporto che non aveva più ragione di esistere. La società ieri mattina aveva annullato riposi e permessi, aveva disposto la seduta di allenamento alle 9.30 e la riunione con lo staff tecnico. Zeman ha deciso di non presentarsi e il presidente Sebastiani lo ha sollevato dall'incarico. Inutile stare a rivangare i dissidi tra Sebastiani e Zeman. È stata una vera e propria telenovela vissuta di botte e risposta mediatici e che ha avuto l'apice a cavallo della gara interna col Novara con la conferenza pre-partita del Boemo che è stata un attacco frontale a Sebastiani e la risposta sferzante del patron bianca-azzurro subito dopo il match. Sembrava quello l'epilogo e invece si sono persi altri due mesi e mezzo di tempo per arrivare ad una decisione inevitabile e che certifica un vero e proprio fallimento tecnico. Cosa può restare di questa stagione con un delfino a metà del guado? Arrivare quanto prima la salvezza e basta o tentare una rincorsa ai play-off? La risposta è la palla. Passano a Massimo Epifani, tecnico della primavera bianca-azzurra, già sotto contratto dunque. Prevale la soluzione interna nella speranza che il neo allenatore possa ricalcare le orme di chi ha fatto lo stesso percorso di Francesco, Bucchi, Oddo. Epifani ha esperienze in Serie D a Miglianico e poi col San Nicolò dove ha vinto un campionato di eccellenza e ha disputato ottime stagioni in Serie D. Ha aiutato Zeman nei primi giorni di ritiro a Rivisondoli a luglio e fino a un mese prima era stato un forte candidato alla panchina del Teramo in Serie C. Ha lui il compito di rianimare una squadra che con Zeman era piatta, svuotata, senza anima. Importante sarà il contributo e il sostegno dei senatori dello spogliatoio. Tatticamente il modulo di Zeman sarà abbandonato e Epifani non è legato necessariamente ad un assetto e valuterà il migliore per questo Pescara. Le prime partite saranno decisive per capire se la soluzione Epifani sarà ad interim o se sarà necessario un nuovo cambio. Intanto prende forma il ritorno di Giorgio Repetto che potrebbe occupare la casella lasciata vuota da Pavone. Prima però dovrà rescindere il contratto con il Teramo che a metà gennaio lo aveva sollevato dall'incarico di direttore sportivo.